Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia storica, bellissima, la prima maglia del Manchester United per la stagione 2007-2008 in un'edizione di prese speciale. Questa è la maglia della finale di Coppa dei Campioni, la prima vinta da Ronaldo. Questa è la maglia di Coppa dei Campioni. La maglia è stupenda, nella mia classifica prende 5 stelle, una maglia storica, la maglia di Cristiano Ronaldo, la maglia che secondo me i vostri figli vorranno avere. Il costo lo vedete qui sopra per questa maglia così bella che vi porta a caso un pezzo di storia secondo me è bassissimo. Vi ricordo che in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Soprattutto trovate un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare per comprare quello che volete. Ora prima di lasciarvi la parte finale mi raccomando lasciate un grosso like e iscrivetevi al canale. Questo è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan!